Abbiamo parlato di una cosa importante, quello che è la difesa, la tutela della nostra produzione attraverso quelle che sono le patologie. C'è in atto questo regolamento 2031 che mette un po' di ansie, ne abbiamo parlato. Ci siamo resi disponibili a mettere in campo tutte le disponibilità possibili per creare le condizioni finché questo passaggio sia il meno doloroso possibile e in qualche modo possa essere non solo un ostacolo ma una risorsa per il nostro made in Italy, per la nostra qualità. Siamo i più bravi di tutti, lo sappiamo a fare queste cose qua, se riusciamo a mettere a posto la filiera e tutti gli attori di questo film lavorano insieme probabilmente faremo un grande lavoro in funzione del nostro made in Italy che è la nostra grande risorsa.